Buonasera e benvenuti a tutti voi nella biblioteca monumentale del Rosario di San Marco. Sono molto vieta di vedere i cosiddetti numerosi in questo giorno, il 18 febbraio, che è il giorno della festa del peale congelico, che con i suoi artisti e le sue pitture ha reso indivindicabile questo convento e gli ambienti del museo stesso per ricordare e celebrare la festa del peale congelico. Oggi ospediamo una conferenza di suor Paola, un po' in cima della configurazione e missione nell'arte. In realtà di nuovo vedo tutto, passo la parola alla parte di Matteo. Buonasera a tutti, intanto ringrazio la dottoressa Mazzia per averci ospitato qua. È una grande gioia per noi di poter essere accolti con quella che nei secoli era stata a casa nostra, la decennia di Capita Pau. È una grande gioia soprattutto iniziare con i nuovi fratelli arrivati a Firenze, una bella commemorazione proprio all'insegna del benfascente, ma anche con il museo di San Marco. Molti di voi si stanno chiedendo come mai abbiamo fatto la conferenza qui. Se lo posso dire un po' di humor, già che avrete sentito qualche notizia che ha a che fare con San Marco, per San Marco è anche questo perché noi siamo tutti qui a fare la conferenza. È vero. Non solo San Marco non è chiuso, mi approfitto per dire che San Marco è aperto con tutte le sue attività. e noi, i nuovi fratelli, abbiamo tutto il desiderio di implementare, continuare e aprire nuovi nuovi e nuove prospettive. Ora di stasera va a riservo di questo, di creare insieme con le diverse unità che interessano, come adesso di San Marco, creare una realtà bella, una realtà aperta. Allora, veramente ringrazio la vostra presenza qui. Due parole di sua soffa. La parola è monaca domenicana del monastero Santa Maria della Nieve San Domenico in Prato Vecchio. È un monastero bello, vivo, se vi capita di essere, di passare nelle zone di Prato Vecchio, vi consiglio veramente poter trovarmi. È un monastero che, come comunità, ha avuto il coraggio di costruire un nuovo monastero e quindi di chiamare un monastero antico che, con le strutture antiche, spesso ha tutta una serie di difficoltà che, al vivere quotidiano, comporta. Quindi abbiamo costruito un nuovo monastero. Avete pensato bene, aperto all'ospitalità, bello, una bella comunità, anche con diversi ombri giovani. Quindi vi consiglio veramente di ritrovarle. Sua parola è diplomata, prima nel liceo artistico, poi in l'Accademia delle Belle Arti, e anche in una sera ha continuato la sua attività artistica, che ha fatto meglio quella che ha la sua vocazione di contemplativa all'arte. Ecco qui da dove nasce proprio contemplazione e visione dell'arte, la sua conferenza. Quindi ci sarà una prima parte della conferenza che sarà più speculativo, che voglio dire, sull'arte. e poi come, in una seconda parte, come il Beato Angelico ha fatto questa sintesi di contemplazione e arte. Probabilmente il magico, il Vincenzo Paola, e anche il suo carisma narratrice, tra l'altro restauratrice anche, e in realtà ne ha anche l'espressione di quello che deve probabilmente finire nella sua vocazione, cercare di fare sintesi tra una spiritualità, internazionale, quindi la sua parola, la sua parola. Grazie. 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 Inanzitutto, mi ringrazio anche la direttrice ma, ringrazio anche la comunità di Santa Maria Galleta che mi ha permesso di essere qui oggi e ringrazio anche la mia comunità in Dottore perché perché mi hanno natata e quindi è stata una cosa che è stata comunicata, ovviamente per cui io sono neanche la mia entità e la mia comunità diciamo questo nostro incontro vuole appunto che fosse una condivisione non parlare con voi di quella che è appunto la mia passione che mi che porto avanti da danni prima in un modo e adesso sto vivendo in manchia la diversa appunto con vaccina l'ultima la direttrice a io a Matteo è qualcosa che ha cambiato negli anni ma non ho mai perso si sente oggi ho dovuto parlare di bellezza di arte e anche appunto di come si diventa la bellezza quest'arte sembra che questa epoca nostra moderna sia stato perduto spesso dell'arte e della bellezza Giacomo Bartos scriveva in buona la nostra prova iniziale si chiama bellezza è bellezza disinteressata senza la quale il vecchio mondo era incapace di intendersi ma la quale ha preso congedo di punta di piedi dal moderno mondo degli interessi per abbandonarlo alla sua utilità e alla sua giustezza è bellezza alla quale non siamo in credo e di cui abbiamo fatto un'apparenza per poterci per poterci liberare ancora in cielo essa è la bellezza infine che esige perlomeno altrettanto coraggio e forza di decisione della verità e della bontà poi prosegue quasi in maniera ironica chi ha il suo nome crespa al sorriso legata giudicandola come il numero esotopo di un passato borghese di costrui si può essere sicuri che segretamente o apertamente non è più capace di pregare e presto nemmeno di amare sono parole due secondo me che indicano una perdita di cuore di sensibilità l'invito quindi è quello di chiamarci costantemente e quotidianamente alla bellezza non per fungere reale ma per cogliere la verità che la bontà è nostra quotidiana è in questo quotidiano nel mondo che sembra frittoloso e distratto un guardare dentro per non rituarci nessun amica la superficie delle cose quindi proviamo a pensare in che modo l'arte e il bello possono essere correlati per ora quando gli è stato chiesto di preparare questo incontro nella festa del nostro mio fratello e di altro genito sono partita facendo alcune domande qual è il modo dell'arte e dell'arte sana oggi ha senso parlare di bellezza oggi in un mondo ci propone sempre più spesso immagini legate a morti e fuggi pensiamo solamente ai social media con queste immagini che ci passano di continua davanti agli occhi e magari senza fermarci su nulla ha senso parlare di questo di tutta una puntura che a volte esalta ciò che è brutto senza attenzione oppure ciò che è bello sull'inapparenza o è bello perché è ritoccato sembra quasi anche da quello che si sente delle persone che passano in monastero sembra quasi che si sia generata una mancanza di sguardo e ricordiamo che se lo sguardo è rivolto solo a noi stessi verso i basso non si è tutta pace riguardo il ritorno ma nemmeno dietro la vita una mancanza di sicuro e di gravità a volte si ha l'impressione quasi che ci sia un mondo ma non è estetizzabile vale a dire senza estetica senza stupore quasi nel tercore incapace di cuogliere estemi di bellezza che sono sempre presenti diceva Dostoevsky che l'umanità può vivere senza la scienza può vivere senza male ma soltanto senza la bellezza non potrebbe più vivere e gli fa ecco il contore Braque che disse l'arte è fatta per turbare mentre la scienza la assicura la bellezza colpisce ma proprio così richiama l'uomo al suo risultato l'ultimo la ricerca della bellezza di cui parlo non consiste in una fuga non direzionale o nel mero estetismo e queste erano parole di Rivelletto XVI in un discorso agli artisti dell'autunale 2009 l'estetismo infatti è astratto è senza fondamenti senza parole senza missione senza anima mi parebbe da dire come una parola che è quasi evanescente moratina la scienza invece spiega cerca di trovare risposte ma se ci pensiamo all'infinito non c'è una risposta la bellezza invece ti interroga e ti fa andare bene per questo curva non lascia tranquilli perché continuamente suscita domande ti fa capire che c'è altro che c'è un'oltre l'autentica bellezza schiude il cuore umano alla nostalgia al desiderio profondo di conoscere di amare di andare verso l'alto quanto è importante quindi riuscire a coltivare uno sguardo che sappia ancora fermarsi e osservare in profondità nel cuore delle cose e della realtà e la terza domanda che mi veniva era ma cosa serve la bellezza in questo mondo tanto spesso a mito nelle tene che cosa vuoi dare entusiasmo e fiducia cosa vuoi incoraggiare l'animo umano a infiovare il cammino ad alzare lo sguardo sull'orizzonte a sognare una vita legna della sua vocazione se non la bellezza ricordiamoci che la bellezza non è un rifugio è un richiamo a vivere più in profondità a guardare dentro quindi non a lontana dalla realtà ma anzi porta ad un confronto spettato con il misturo quotidiano per liberarlo la vostra qualità e per assicurarlo per renderlo luminoso e meglio pensiamo ad esempio nelle tene siamo ciechi non vediamo un po' perché siamo feriti da una condizione esterna ma talvolta ci sono anche condizioni interiore pensiamo alle tante forme di società dello spirito come l'egoismo l'egocentrismo che portano sempre a dare questo sguardo rivolto verso il passo il contrario è la luce perché la luce è vita e genera vita basta pensare alla crescita delle piante che affronta tutti noi ogni giorno attraverso la luce quindi io posso vedere acquisto la capacità di leggere la realtà con il nostro intorno la luce è la miglioratrice della bellezza e la bellezza è questa luce nascosta nel cuore delle cose acquistare la capacità di vederla e donare ai nostri occhi un nuovo modo di vedere del mondo Paolo VI nel messaggio agli artisti del 65 bellissimo secondo me anche perché era un po' il messaggio che tentava di riagganciare i rapporti tra la chiesa degli artisti attento scriveva questo mondo in cui viviamo ha bisogno di bellezza per non sprofondare la risperazione la bellezza come la verità è ciò che infonde gioia al cuore degli uomini è quel frutto prezioso che resiste all'augurio del tempo che unisce le generazioni e le fa comunicare nella mia razione siete i custodi della bellezza nel mondo e una delle espressioni della bellezza è l'arte come liberazione della creatività del mondo all'arte ho voluto legare i due termini che sono contemplazione e missione agli iniziamenti gli esperti sembravano incrociati tra loro perché a contemplazione potrebbe chiamare la nostra mente a qualcosa di stato immobile un fermarsi per rimanere a tutto per tocco uno stupore che sembra non toccare agli altri ma solo noi stessi quello che ci viene a volo dentro a volo con i monach è una cosa fatta tutto il giorno perché appunto sembra che la contenerazione sia solo uno stare a fermarsi e invece non c'è altro missione entra invece a un dinamismo all'andare all'uscita quindi che cosa hanno in comune queste due parole e soprattutto dove si posiziona in tutto questo contemplazione a questo significato l'insistenza a prolungare del risuardo o del pensiero su una fonte di meraviglio e di amicazione è un guardare con attenzione l'arte invece è qualsiasi forma di attività dell'uomo come ritorno o esaltazione del suo talento individuo e della sua capacità espressiva l'arte è essenzialmente il pello nasce per donarci un messaggio ben preciso che è stato prima concebito nel cuore e nella mente dell'artista del poeta del musicista di tutte le forme che si è l'incorso espressivo manifestazione uscita da sé uno dei monti del nostro ordine dice contemplare e contemplare ali strade contemplare e donare agli altri ciò che si è contemplato il modo primo è la sua strada ma poi legato a una testimonianza derivante da ciò che ha toccato il mio cuore e la mia mente la contemplazione allora non è fine a se stessa ma si ha qualcosa di più grande ad un annuncio ad un messaggio la contemplazione non si attarga a questo fine rimane e risulta seria priva di vita incapace di nonare l'identità se non alla singola persona la nostra missione la missione di ciascuno invece è donare vita per la propria vita avere questa passione per Dio e passione per l'umano una non può esistere senza altro quindi passione di rinforzo ora e la cosa bella di questa missione ognuno porta ciò che il suo loro il suo talento ed è bellissimo secondo me che la vocazione domenitana questo non serve dire il talento qualunque esso sia tutto ciò che è loro ricevuto personalmente lo è per essere condiviso prima in matrimonità e poi allargando un errore quando nella scrittura si piace questo allargare lo spazio della vendita ed è anche per questo che il nostro ordine ogni secolo ha presentato sempre una costellazione di confratelli con sorelle debiti all'alto alle scienze alle scoperte tutto diventa un mezzo per raggiungere il fine e tutta manifestazione del divino la natura nel mondo è espressione immagine della tua affidità che sono un artista una speciale posizione è un po' il ciclato di arte e scrivete a Giovanni Coro II gli artisti nel 99 che avvertisse questa sorta di scintilla divina che era vocazione artistica di vittore poeta scrittore scultore tutte le forme artistiche all'appunto avrete l'obbligo di non sprecare questo talento ma gli svilupparlo per metterlo al servizio del prossimo e di tutta l'umanità è bello questo avverte l'obbligo di non sprecare il talento quasi fosse come un fuoco che arde dentro non contenibile e qui mi fanno anche le parole di Gerenia il profeta Gerenia quando dice avevo un fuoco dentro ma non potremmo quanto nello è espressione di riuscire di venire dalla luce quindi vi invito quando mi dice l'Amo di sviluppare il talento perché si è messo a frutto del prossimo e di tutta l'umanità siamo i più stori di un patrimonio che abbiamo ricevuto che abbiamo ereditato e che abbiamo il dovere appunto di trasmettere siamo responsabili di questo dono e siamo responsabili anche lì che vi parla i nostri occhi a vedere l'arte è una profezia espiata e l'artista è il profeta la funzione dell'arte è quindi profetizzare parlare dell'illusibile evocare con forme suoni e colori lo sconosciuto il non detto indescrivibile ciò più intimo più prezioso più divino dell'uomo pensiamo solo come l'uomo fin dalle origini ha cercato un mese di espressione e un linguaggio sono testimonianze vive ed autentiche di fede di esperienze l'immagine e l'immagine ritrava la mente ci rappresenta senza uso di parole se ci pensiamo alla famosa Bibbia dei poveri che parla ancora oggi e parla a tutti se non attraverso la vicenda narrata che magari qualcuno può non conoscere tramite la diversa che abisce lo sguardo e il cuore l'artista quando basa un campo lavoro non soltanto femminita la sua opera ma per mezzo di essere in certo modo svelante la propria personalità nell'arte edito ha una dimensione uova e uno straordinario primario di espressione per la sua crescita spirituale così come nella vita anche da metà ancora d'arte non ci troviamo a fronte a qualcosa davanti al cuore in maniera semplice ma piuttosto qualcosa che ci parla che ci interpella qualcosa di vivo che ci chiede di andare oltre e di cercare in quelle pennellate la storia e l'anima di chi la prodotta e qui mi piacerebbe mettere questa parentesi perché quello che appena detto l'ho più gissuto prima di entrare in monastero è stata la mia prima conoscenza con il viato ingegno e era il 2008 dopo che sono andata a fare questa gita a Cortona e c'era il Museo di Cesano e mia fuori con la sorella mi aveva detto mi raccomando se era a Cortona vai al Museo di Cesano perché c'è un'annunciazione del Dato Angelico che devi soltamente vedere io sono attacca e non mi aspettavo di vivere un po' un po' tutto quello che c'era fino ad adesso perché a un certo punto mi sono trovata in questa stanza qua davanti l'opera che vedete adesso e io credo di esserci rimasta davanti almeno tre quarti d'ora se non ora sapevo che c'erano i miei genitori fuori che mi aspettavano e non uscivo più e quindi questo che mi aveva scopera mi aveva parlato mi aveva parlato mi aveva detto qualcosa che io ancora non capivo ma poco preso in seguito e questo mi ha fatto capire appunto come la bellezza l'arte è uno straordinario finale di espressione e di paura e come può capare la vita di ciascuno da lì è nata anche la mia passione mi amora anche con il Dato Angelico mi dico sto solamente cominciando a conoscerlo perché è un'amica ma appunto facciamo un po' più di conoscenza del nostro confratello lui a Bartesimo si chiamava Guidolino di Pietro ed è nato negli ultimi anni del XIV secolo all'incirca a Michio un paese qui vicino nel Mugello la sua prima vocazione fu la cultura non si conosce nulla dei motivi che l'hanno spinto a lasciare il suo paese nativo per scendere a Firenze ma molto probabilmente è stato proprio questo volere imparare di schiena e si sapò quanto del periodo del suo prendistato si sa che fu il discepolo di Lorenzo Moraco appunto Moraco portano a Mardolese della Grazie a Tridentina di Santa Maria di Piaggio il suo periodo di appendistato durerà circa a maggio 1417 e in questi primi anni imparò scottolato della miniatura inizialmente si specializza in questo poi della capola e dell'attresco anche a seconda dei lavori che venivano commissionati al maestro di bottega il maestro aveva una commissione faceva le opere principali i personaggi principali e lasciava ai suoi garzoni le parti secondarie inoltre i garzoni avevano il compito di preparare i volori i documenti di macinare di preparare le necessarie e questa era una formazione per loro oltre che un'aiuto per il maestro e inoltre guardando imparavano a basare ai tempi di questo predestato dell'angelico la composizione sottostava ancora delle ordine molto rigide che erano imprese un po' dalla tradizione iconografica bizantina quindi si sentiva ancora questo influsso della gerarchia che stabiliva la dimensione e la proporzione dei personaggi di cui il posto centrale era il servato Cristo poi quello più accanto a Cristo l'altro personaggio principale i loro atteggiamenti tutto era fissato e quindi gli artisti ricorrevano un po' come degli schemi tradizionali era come avere un manuale pronto all'uso che diceva quanto più cosa dirigere famoso ad esempio il trattato del Cermini appunto che spiega minuziosamente le proporzioni di colore elegante di tutto quello che ci voleva inoltre anche il valore nel suo valore espressivo era nel quale soggetto a notevole limitazioni ad esempio il giallo era il simbolo di Pietro o di Giuda tutto il colore del tradimento Maria era spessissimo rappresentata con delle vesti rosse e l'u come la vediamo in quest'opera il rosso della natura umana del sangue e l'u della divinità Cristo invece il contrario pensiamo al fondo oro di alcoltà che impediva l'ambientazione naturalistica della scena quindi in questa epoca dimostrava genio artistico chi sapeva superare questa normativa con libertà creativa correndo ancora un rischio alto perché potevano sopraggiungere i rifiuti delle ove da parte di contenti ma bronchi tra le innovazioni oppure poteva procurare fama proprio perché la novità attraeva e affascinava quindi Guido a bottega imparava questo e inoltre anche suo maestro Lorenzo ha attinto dai maestri del passato che sono stati dei grandi innovatori come Lucio Rominsegna Simone Martini i fratelli Lorenzetti che hanno cercato di donare umanità alle loro rappresentazioni artistiche inoltre anche Cimabuo e Giotto Lorenzo quindi si vuole come un passaggio tra il gotico e il rinascimento impara dei grandi del passato ad andare oltre la tradizione studiando alle innovazioni del suo tempo il primo documento lo troviamo sul viaggio angelico risale al 1417 ed è la sua iscrizione alla compagnia di San Nicolò presso la chiesa del Carmine a Firenze questo è anche segno di un cammino spirituale intrapreso essendo questa compagnia una corporazione di carattere religioso e in questo documento è riconosciuto come dipintore a quella data grazie di una glossa prossima sappiamo che è ancora larga questa glossa recitata fece il sitato di Santo Dominico ed è datata tra il 1420 e il 1422 quindi sappiamo che Guido di Pietro entrerà nell'ordine dominicano all'incirca in questi anni tra il 1420 e il 1422 era entrato in contatto con tante altre realtà ad esempio con i camardolesi ma diede la preferenza all'ordine di San Domenico e tra l'altro qualche anno dopo vi ritroveremo anche suo fratello Benedetto anche a Sominicurista tra l'altro a quel tempo due erano i movimenti dominicani in questa zona uno era Santa Maria Novella e l'altro era San Domenico Fiesole nel primo però si trova scritto che a Benedetta non veniva concesso il sacerdozio agli artisti perché considerati lavoratori servivi lavoravano con le mani e quindi non erano in qualche modo degni di essere sacerdoti e allora tra il Guido di Pietro entra nel convento di Fiesole e la sua formazione aveva un peso determinante Sant'Antonino è stato lui sia suo maestro che il suo piore alla professione religiosa quindi fra Giovanni questo è un nome che prese il Guido dell'Ordine si trovava dinanzi a un miglio scegliere se essere converso quindi questo gli avrebbe assicurato maggiore libertà anche nel suo lavoro come artista oppure ma con i suoi superiori in cui c'è da fare davvero un elogio Sant'Antonino scelse di essere veritare perché Sant'Antonino aveva riconosciuto questo genio pittorico e ha voluto che si sviluppasse e portasse tutto ma anche spesso non ha voluto togliere all'Angelico il fatto di essere sacerdote quindi nelle opere dell'Angelico troviamo predominanti dei temi soprattutto che molto derivano anche dalla sua relazione con Sant'Antonino per l'appunto quindi la centralità di Cristo la conoscenza delle sacre scritture il magistero la desioca dottrina tomista l'esemplarità dei santi e anche questo l'attenzione delle richieste e attese del popolo e quindi una semplicità delle sue creazioni dovevano poter essere immediati dovevano parlare tra le numerose condizioni dell'Angelico mi fu quella del suo priore appunto Sant'Antonino che vuole realizzarti in questo convento di San Marmo che all'epoca dal 1437 era dominicano vuole realizzarti una serie di trutture murale gli avori cominciavano nel 1439 e all'incirca a darmo avanti fino a 1445 e vi ha tangente dove si dipinse in questa struttura ad affresco 54 composizioni con oltre 320 figure umana quindi una cosa immensa all'interno di un convento erano lecite anzi erano richieste dalle immagini sate a correddo delle sale comuni del dormitorio e delle celle erano proibite invece immagini sate ed esclusi materiali preziosi ed è stato uno dei motivi per cui Fra Giovanni scelse la tecnica della fresco i cui materiali compositivi sono poveri sono semplici un po' di calce sabbia e terra e terra dei piglenti la bellezza di queste pitture murali è che si trovano nei luoghi pensati dall'artista questo è un privilegio per noi perché ancora oggi possiamo vedere il progetto e il messaggio che Beato Angelico voleva dare sui confatelli possiamo fare degli esempi presi da Cassandra fuori dalla foresteria ha dipinto ad esempio il Cristo Pellegrino accorto dagli frati nell'iniziatto che vengono le figure di Cristo crocifisso come sostegno a chi entrava nella vita religiosa e invito a riconoscere e unirsi all'amore tutto era pensato per richiamare la mente dei frati al divino il divino che abita l'umano era una sorta di aiuto per mantenere quel clima contemplativo e di profondo ascolto la riforma della pace dominicana come scriveva il Beato Giordano e la Beata di Anna sono più nostri confratelli dei primi secoli dell'ordine del primo secolo dell'ordine sia sempre vivo nel tuo cuore il desiderio della Patria beata il luogo splendente della luce di ogni bellezza posso lasciarmi interrogare le opere dell'angelico dove mi pongo io gli suoi diventi sono tra i discepoli che ascolta sono tra che accoglie il pellegrino è questo il messaggio vivo ed attuale che parla ancora oggi e che vuole entrare in dialogo con me personalmente l'immagine richiama la mente ciò che rappresenta anche senza bisogno di parole ma come dipingeva l'angelico ci viene trasmesso dal basato che non avrebbe mai messo male in pennele senza prima aver fatto orazione non fece mai il crucifisso che non si bagnasse le gotte di lacrime questo ci dice quanto fosse contemplativa la rima dell'angelico e quanto la sua arte scatuisce da una profonda contemplazione da un'esperienza che diventa messaggio alcuni autori ci riferiscono che il viato angelico dipingesse in uno stato di estasi non è ovviamente l'estasi come la pensiamo a noi ma è come un ruolo un essere totalmente immersi mente anima e corpo in ciò che si sta facendo con somma direzione mettendo tutte le nostre facoltà a servizio della missione l'angelico era immerso nel mistero che intendeva celebrare quelle sue pennellate è un'uscita da sé ma immergendosi sempre di più in sé trovando del centro vitale che in ciascuno e dove Dio abita e parla al cuore come direbbe Santa Caterina la scelta interiore la creazione artistica è sempre evento di gratuità e di verità nonché possibilità di dare forma ovviamente al mistero dell'essere dopo avermi ricevuto la chiamata come siete di bellezza è un attendere un concepire un partoriero un'intuizione è usato apposta dei verbi molto femminili perché è come se fosse un parto una parte di sé riesce è appunto partorire questa intuizione questa immagine che quasi all'innoviso si genera nella nostra mente davanti ai nostri occhi è certo però che quello che si propura sarà solamente un riflesso di quella bellezza che è valenata nel nostro aspetto l'altro aspetto che indica il basso sono le lacrime che i lacrime sono espressioni di amore di dolore di coinvolgimento l'angeli però smosso fin nelle fibre più profonde delle sue anime e se come dice la struttura è vero che la lingua parla della bondanza del cuore ciò vale anche per l'espressione artistica in cui tra Giovanni mostrava tutto il suo mondo interiore ed è bella questa testimonianza che ci ha tramandata in cui si dice che Michelangelo stesso passando in visita a San Domenico di Fiesole vide l'annunciazione dell'angelico che ora se non erro è al prato di Madrid e vide questa concezione e disse bisogna che la vede essesse fatta in paradiso quest'uomo in paradiso l'ha venuto quindi è stato un po' come un riconoscere quest'arte dell'angelico che scaturiva appunto dal suo porto profondo con Dio e dal suo stare con Lui non possiamo scendere l'uomo dall'artista l'uomo da consacrato perché l'artista porta in sé tutto l'uomo e tutto il consacrato e ci fa vedere la realtà con la trasfigurata attraverso i suoi occhi troviamo sempre quasi sempre sceneri col militare di dolcezza anche le fedure dolorose pensiamo alle percepizioni sono come rivestite di quest'aula di pace qui mi veniva un confronto con un altro grande artista di qualche secolo dopo Caravaggio perché nelle sue opere nell'opera di Caravaggio troviamo quasi un'esagitazione forti contrasti siamo immersi in quelle opere nella lotta dell'uomo per venire alla luce nell'angelico invece tutto è già immerso in questa luce divina l'uomo è visto con gli occhi della grazia la luce pervade le scene e trasfigura l'uomo è una realtà già redenta beato angelico agli occhi di volta al futuro vede già qui ed ora realizzato quel regno che aspettiamo l'angelico dipinge ciò che vede in suo cuore rivolto a Dio dona ai suoi occhi lo sguardo di Dio assumersi il compito alla operazione della bellezza dell'arte implica rispondere a questo appello del creatore operando nella verità della facoltà creativa e l'incomunione con lui quel mistero che già qui ed ora fa guardare il mondo come creaturalità riuscita quindi appunto questo sguardo che vede già realizzato ciò che sarà assumere questo sguardo ci permette quindi di essere sempre di fronte al mistero non distaccandici mai dall'umano che Dio stesso ha assunto l'angelico affrescando in modo particolare San Marco poi anche ai tre conventi dell'ordine siamo anche a Cortona come se ne riuscirà un altro convento ha lasciato la traccia indelebile della sua spiritualità che era profondamente dominicana ma soprattutto è bello pensare anche che con le sue opere ha nutrito la contemplazione e la predicazione di molti suoi confatelli in diverse epoche e nutre ancora oggi le sue opere le sue opere quindi sono parole scritte non con il crosto ma attraverso i pennelli che rendono manifesta la parola e la scrittura vorrei leggerle in particolare stasera la prima è l'annunciazione della scena numero 3 la seconda sarà la percepizione del crosto questa è una delle annunciazioni secondo me più belle e più umili più semplici che il viato angelico abbia mai vinto è semplice nella rappresentazione semplice nei materiali ma dalla povertà nasce una grande ricchezza è spogliata di ogni elemento decorativo che nella scena di un frate potrebbe anche diventare motivo di distrazione e rimane solo questa scena pervasa di luce tra Giovanni ambienta la scena in un chiostro chiostro che è dall'ottino al clausco riparo recinto quindi un luogo chiuso protetto riparato un luogo di silenzio e di raccoglimento ed è così che ci affare la figura di Maria la ragazza si presenta a esile i lineamenti allungati simbolo di grazia e dell'ipetezza e in giro un piano sono sgabello con un libro in mano come vuole la tradizione ecco quello che mi diceva anche all'inizio un po' queste scene che venivano che avevano questa tradizione iconografica anche precisa l'angelo alla quale in questo momento di preghiera di meditazione di contemplazione di quella parola che si fa la carne in lei Maria è immersa in questa luce che la rende quasi risfigurata incantata immersa in quel mistero che la avvolge le sue vesti sono dipinte con pochissime pennellate tra l'altro ricordiamo che al fresco aveva bisogno di una velocità di esecuzione perché l'intonaco asciugava molto velocemente e quindi necessitava anche di una certa svertezza dell'esecuzione e le vesti di Maria molto sono rosa il colore dell'aurora le mani sono raccorte sul cuore a custodio di quel mistero che è venuto ravitare l'angelo si trova ancora davanti a lei in piedi quasi iratica non ha nulla tra le mani e anche egli le porta a raccolta quasi a voler custodire la risposta e l'assenso che ha ricevuto dalla giovane creatura che sta davanti a lui è bellissimo notare che c'è una tensione generativa nei loro sguardi è un po' segno di quel dialogo avvenuto fra di loro che ha cambiato il corso anche della nostra storia anche Gabriele e Maria ha le resti usate simbolo dell'aurora dell'alba del nuovo giorno che trionfa sulla notte e il romano trasfigurando il creato con la sua calda luce testimonio osservatore della scena abbiamo anche San Pietro Martire primo martire del nostro uomo si pone come esempio di un frate tra l'altro Domenico era predicatore del bello incarnato quindi anche questa scena che nel nostro ordine significava davvero molto nella pienezza dei tempi quindi è sorta quest'alba nuova e Maria è l'aurora della salvezza come ci dice il maniero di Giovanni la luce splendere le tenebre e le tenebre non hanno vinto il Dio con noi ha abbassato per amitare le nostre vite e farci risplendere di luce nuova Cristo immagina del Dio invisibile anche questo grazie all'informazione immagina Dio nell'uomo solitamente tra l'altro è bello notare anche questo nelle annunciazioni viene interposta una colonna tra i due personaggi questa colonna sarà del simbolo di congiunzione tra la scena e la terra quindi immagina di Cristo ma invece in quest'opera non c'è alcuna separazione quindi la luce abita in noi come una forza inarrestabile che ci rende nuove creature e non ci sono più barriere credendo ad un amore che ci raggiunge dove siamo e che ci ama come siamo la seconda opera che vi dicevo era San Domenico e i vidi del crucifisso quella che troviamo entrando nel chiostro è una delle immagini forse più famose dipinta da Vangelico dipinta di fronte all'ingresso era un componente dove chi entrava la prima cosa si toglieva questa immagine è un messaggio che deve arrivare in equivocabile è dipinta a grandenza naturale ed è privata di elementi decorativi spoglia nella sua essenzialità guardiamo la terra è priva di elementi decorativi non ha così di genere di vegetazione è arida su una piccola montagnetta si erge la croce su cui è impierato Cristo ed è di una bellezza quasi statuaria col corpo trasfigurato dalla luce il suo volto è sereno nonostante ci sia la ferita sul costato ha ancora gli occhi e le labbra semiapretti è rappresentato come il trionfatore sulla morte colui che ha donato la sua vita per l'amore ed è proprio questo amore che lo fa vivere e dalle ferite vediamo sgorgare appunto quel sangue che dà vita che va a bagnare la terra e fecondarla diciamo che la terra è appunto l'immagine dell'umano quindi questo sangue che viene adattita a noi e quindi della croce troviamo San Domenico commosso nelle nostre fonti si dice che San Domenico piangeva molto piangeva molto appunto di fronte alle miserie del tuo passava anche le notti a pregare e piangeva quindi Deato Angelico dipinge suo padre commosso abbracciato alla croce e con gli occhi quasi approssati viso contratto dal dolore è rappresentato come se volesse prendersi carico di quel dolore di quell'amore che lo fa diventare uno con l'amato Beato Angelico il vero figlio di San Domenico come abbiamo detto spesso veniva rappresa veniva raffigurato mentre piangeva davanti a croce fossa è commozione di fronte a quel troppo grande amore la vera bellezza che è posta sotto lo sguardo di tutto voglia di vita vera bellezza che è stata dipinta in tutte le sue forme dall'Angelico perché ogni atto della vita di Cristo è rivelazione di questa bellezza che salva e che dona vita è un'altra situazione di cui l'arte diventa testimone tra l'altro entrambe le opere che abbiamo visto indicano un abbassamento la vera bellezza è umile non grida si nasconde dentro le pieghe della fragilità umana a questo punto per concludere vorrei tornare alla domanda iniziale a cosa serve la bellezza oggi e soprattutto l'arte che ne è espressione di fronte a tanta sofferenza nel mondo contemporaneo ha senso parlare di bellezza ricordiamoci che impariamo a guardare solo se stiamo guardati se uno sguardo si posa su di noi e ci fa sentire vivi amati importanti parlavo qualche tempo fa con un insegnante mi diceva un insegnante di storia dell'arte e mi diceva che nella sua classe tentava di far lavorare molto attraverso le immagini chiedendo ai ragazzi di descrivere quello che vedevano e non era capace non sapevano ad esempio vedevano questa scena non sapevano che cosa si trattasse guardavano magari due persone sul tuo tavolo e non sapevano descriverla e si interrogava su questo a un certo punto un ragazzino aveva detto professoressa noi non siamo capaci di guardare perché nessuno ci guarda quindi non avevano imparato a guardare come un bambino a cui non si sorride mai non sarà capace di sorridere quindi guardare qualcosa guardare qualcuno è come far resistere nel mio riconoscimento nella creazione stessa Dio esultò guardò e vide che era cosa buona quindi c'è questa radice di verde di buono in tutte le cose e in più non c'è nulla che non sia stato assunto da Cristo e nobilitato da voi l'angelo stesso appunto dipinse la sofferenza di Cristo in maniera divinosa non c'è mai disperazione nelle sue figure semmai c'è con partecipazione un soffrire con l'altro in attesa di una nuova creazione c'è umanità c'è dignità il dolore degli altri ci muove fa sorgere in noi questi sentimenti e anche gesti di bellezza vera quindi guardare questo tipo di arte ci richiama coltivare profondamente la speranza a vivere con uno sguardo diverso che faccia cogliere semi di luce e di vita nel cuore stesso delle cose delle vicende la via della bellezza ci conduce dunque a cogliere il tutto nel frammento l'infinito nel finito Dio nella storia dell'umanità un'autrice diceva in tutto quello che suscita in noi sentimento pure ed autentico del bello c'è realmente la presenza di Dio c'è quasi una incarnazione di Dio nel mondo di cui la bellezza è il segno il bello è la prova sperimentale che l'incarnazione è possibile quindi lasciarsi sorprendere dalla bellezza serve per realizzare in un'opera d'arte il nostro capolavoro serve trasformarci a trasfigurarci sempre Giovanni Moro secondo nell'altera di artisti scriveva ad ogni uomo è affidato il conto di essere artefice della propria vita in un certo senso egli deve fare un'opera d'arte un capolavoro quindi come i pigmenti che sono terre uniti a poca acqua un po' di legante e al genio dell'artista che diventano capolavori così anche ciascuno di noi la terra della nostra umanità tanto spessa ferita unita agli altri e sotto la guida del sonno artista può diventare un capolavoro di Dio testimone di quel mondo nuovo che vuole venire alla luce già qui ed ora mi diceva siete invitati a partecipare alla celebrazione eucaristica che ha fatto con Basilica nel 1913 sarà presa e luta dal nostro superiore provinciale e patriarca qui sono presenti anche i novizi che ha l'ordine che farà un servizio e dopo la messa perché desidera ancora fermarci consumeremo una messa insieme un aperitivo rinforzato per conoscersi a queste giornate grazie grazie a tutti grazie a tutti